Buon day, benvenuti in questo nuovo video, il mio primo video da sola Allora, oggi ci sono io al posto di Giuseppe a vloggare perché Vorrei riaprirmi il canale YouTube perché ce l'ho già, sì, da un anno che non faccio video però, vabbè Visto che Giuseppe mi rompe sempre dicendomi, eh, perché non ricomincia a fare video, cose così E voi sotto i video che faccio con lui mettete sempre, apri un canale YouTube, ecco, in realtà ce l'ho già però Ehi, non faccio video E quindi, niente, vorrei ricominciare e dirò a Giuseppe di montare questo video, probabilmente Perché, sì, è il suo canale, cioè, montatelo tu, non vorrei dire Ehm, quindi lasciatemi imparare qua sotto Se volete che ti cominci a fare video di italiano, non lo so Vabbè, vabbè Ehm, e niente, oggi cercherò di nascondermi in una macchina di Giuseppe per 24 ore Non so quanto possa riuscirmi questa cosa, però ci proverò E niente, ora gli vado a chiedere se mi accompagna a cavallo tra un'oretta E vediamo cosa mi risponde Ehm, dovrebbe uscire tra poco con qualcuno, non so tra quanto, ora gli chiedo Ehm, tra un po' credo, però Va bene, vediamo Ehm, niente Ah, vi lasciate un bel mi piace Mi accompagna a cavallo tra un'oretta? No, 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 non posso Vieni tra dieci minuti e in qualche ora esco Ah, ok Ehm Vedete se ti può accompagnare qua Ok Ok Allora, prenderò Le chiavi di scorta perché Qua ci sono quelle che usiamo di solito E Eccole Le chiavi di scorta E andremo in macchina Andremo in macchina Ho preso le chiavi di scorta Almeno non si aspetta niente perché appunto Sono quelle di scorta, non siamo quelle principali, no? Che sono un portachiavi E niente Ora vado in macchina Ecco la macchina di Giuseppe Piccolo problema Cioè che lì è incollato Ok, niente Sono stupida Era incastro Comunque l'ho messo un po' così almeno Niente Ora Poi gioco la telecamera E Aspetta Oh mio Dio Allora Sono strettissima Cioè No, davvero Che male No, così Non riesco a stare tantissimo Allora Ehm Ora Ho chiuso la macchina Perché Se no Cioè Si vede che è aperta Insomma Ho capito pure le chiavi E niente Fa freddo Potevo mettere il giubbotto No, comunque posso riprendere così Tranquillamente Senza farmi vedere E A dopo Chiudo la macchina E Oh It's about to find Potevo mettere il giro Potevo mettere il giro Herte Questa Potevo mettere il giro Rinstall Potevo Potevo mamma Grazie Allora Ok con le chiavi di scorta Ma c'è un problema Anche se apro la macchina Cioè il bagagliaio Non si apre da dentro Quindi sono chiusa qui E fa freddo E' tardi Quindi ora manderò una foto a Giuseppe E vediamo Si indovina dove sono E se mi viene a prendere soprattutto Perché io sto congelando Ok Allora No non ce la faccio Ragazzi è troppo freddo Allora Ragazzi sto congelando Non gli arriva il messaggio Basta morirò qua No Perché ho fatto sto video Sono stupida Dai che è freddo Cosa faccio Non gli arrivano i messaggi No raga Aspettate Oddio perché non gli arrivano i messaggi Dio fa non prende raga Ok raga allora La foto si è inviata dopo Mezzo Ma che c***o Che fai qua dentro Perché stai registrando Ha freddo Ma che c***o ci fai qua dentro Da quant'è che sei qua dentro Come hai fatto entrare Le chiavi ce le ho io Da stamattina Ce le ho io le chiavi Come hai fatto entrare Quelle chiavi di scorta Come è stamattina Scusa io ho preso la macchina Non è vero che eri in macchina Eri in macchina Ti ho anche ripreso Dai che io parlo da solo Ho sentito Ma quello che andava in contromano Eh sì c'è uno che andava in contromano Qua fuori Eh niente raga Niente Allora Scusa io stai da stamattina in macchina Allora E non sei mai uscita Visto che Aspetta che favore Da quant'è che sei qua Allora Visto che Tu insisti che devo ricominciare a fare i video Devo ricominciare a fare i video Ho deciso di fare un video con il tuo canale Per dire Questo è un video che devo caricare io Appunto ricominciare E devi anche montarlo tu caro Ma ho detto cose che non si Cioè ho detto parolacce Sì Non mi ricordo Sì E niente Dai fa freddo Va bene Non sei mai uscita dalla macchina Non ci credo Eh no Sei matta E poi non si apri Ovviamente io non ho pensato che il bagagliaio Non si apre da dentro Eh grazie Sai com'è Cioè si può aprire da fuori Ma da dentro Oh ce l'ho fatta freddo Dai nani Poi non ti arrivavano i messaggi Eh poi mi è arrivato Quanti ho visto la foto Ho detto che ho riconosciuto la busta Delle cellule Allora ragazzi Faccio io l'outro del video Perché mia sorella non l'ha fatto Comunque volevo dirvi che in descrizione Trovate il suo canale youtube Andate a iscrivervi Sono uscite anche le nuove felpe Se volete acquistarle Sono queste qua con l'ananas Ci sono anche bianche Trovate il link in descrizione Nel primo commento Anche del merchandising Mi raccomando Acquistatelo Seguitemi su instagram Perché sto caricando un sacco di video Un sacco di prank Un sacco di roba Tipo stasettimana Ne ho caricati ben tre Giuseppe trattino basso Trattino basso Barbuto Mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi al canale E se avete visto il video Fino alla fine Commentate con hashtag Fino alla fine Spero che questo video Che ha fatto mia sorella Vi sia piaciuto Io tipo montandolo Mi sono divertito un sacco Perché giuro Non me l'aspettavo Cioè è stata proprio brava Devo stare attento Mica che mi supera Con la bravura Fare questo tipo di video Perché c'è Ok Comunque bella Un bacione Ci vediamo con un prossimo video Settimana prossima Mi raccomando Seguitemi su instagram Non mi sono dimenticato Del vincitore del contest Del fan più attivo di dicembre Domenica Ovvero domani Controllate la La sezione community Del mio canale Dove pubblico i post Perché pubblicherò lo screen Con la fan O il fan più attivo Del mese di dicembre Che vincerà Un capo del merchandising A sua scelta Non mi sono dimenticato Grazie a tutti.